Buongiorno a tutti e benvenuti a questo ultimo opening pack ultra veloce prima dei Totti Perché ancora un opening pack? Perché ci sono questi giocatori della squadra la settimana ma in più ci sono anche questi Squadra della fase a gironi, siccome Revolution ha rilasciato dei palloni speciali della Champions League Ho voi che anche Viva non ci spulci di soldi per questa cosa e l'hanno fatto anche loro con i giocatori però del gruppo Non sponsorizzati dalla Champions League Ho 1900, 5 points, volendoci la madonna, 2 da 100.000 Sto cazzo, andiamo di pacchetti da 15.000 che ci vanno molto comodo anche perché l'altra volta abbiamo trovato Vardy Record Breaker E ora troviamo giustamente un terzino destro Arbeloa Perché giustamente, ripeto, giustamente c'è un giocatore della squadra del gruppo del Real Madrid E mi danno Arbeloa, perfetto Questo qua mi gioca in Inghilterra, allora proprio si tiene alla grandissima Perché ragazzi, se c'è... Oh, il giocatore che gioca nella squadra del mio stem si tiene per forza Perché dovete sapere ragazzi che dall'anno prossimo Quando ovviamente avevo spacchettato anche un... qualcosina di... dei cosi No, non ho... Qualcuno ho Come faccio a mandare... In via di stranferimenti ma hai già rotto le palle Perché con tutti i spacchettamenti che farò per i totti Ragazzi, con... I giocatori che troverò Con i giocatori che troverò, stavo dicendo Mi farò su una squadra della Premier League Perché ovviamente ho trovato Vardy Record Breaker Non vuoi che io ci giochi Scusi, eh E quindi consigli Mi dite consigli per fare la squadra Maxwell Buono portiere E subito al club Poi ovviamente se quei pezzacci di schifo Si sviluppano a rilasciare l'aggiornamento per il capitano Mi farebbero anche un mega incredibile Piacere Perché ovviamente non è che posso stare qua A registrare sempre con la Playstation Che va bene Che va bene Però se c'ho cosino Vorrei anche registrare con l'apparecchio Ovviamente non l'apparecchio dei denti Ma l'apparecchio per poter giocare Per poter giocare e desistrare Quindi ragazzi Mo' andiamo al spacchettamento Ci sono ancora un paio di Eh, ok Ci sono ancora un paio Eh, beh, proprio questa Eh, però magari Queste qua si riesce a venderle Murillo era in forma Oh, ce l'ho da questa Murillo era in forma settimana scorsa E lo troviamo adesso Mi sembra più che giusto Siamo al punto dell'altra volta E troviamo Un cazzo C'è da c'è Proprio bello Bello affillai Da che forse ce la facciamo Forse sulla squadra Allora Via club Questi qua non mi servono Brendan Rodgers proprio E la madonna quante forme fisiche Che mi fai trovare Cazzo La tengo tutta figa Tengo anche questa Mo' ragazzi Facciamo una cosa Aspettate un attimo No Allora ragazzi 35.000 Invece di aprire Un'altra Altri due Da 15.000 Ragazzi Ne apriremo Uno di botto Da 700 FIFA points Spero che il video vi sia piaciuto E speriamo di tirare Una scurata Mega atomica E di trovare qualcosa di buono Perché troviamo Un cazzo Perfetto Farcao Che non costa niente Ovviamente Giusto? Cosa vuole che costi Un cazzo Ah beh però Fermi tutti Ed è l'Inghilterra Quindi mi va bene a me Club Poi Glick Club Questo è Club Montane Hot Che mi apriamo a fare Faccio un cazzo Blanche E via Ma non abbiamo trovato Niente Che ci aggradi Ovviamente Maiata Dell'A No Stemma dell'Asse È perfetto Sapete che vi dico C'ho ancora Un pacchetto Da 15.000 Ci andiamo In culo proprio Tanto per 15.000 Cosa vuoi Che fare Volevo fare anche Frutto draft Ma non posso È perfetto Troviamo la Stefanenko E Questo qua Gioca Nel Leccer Me lo Tengo Mi tengo Anche questo Sanda Bruce Non ci facciamo Niente Entra ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Non abbiamo Tirato una sculata Come quella Dell'altra volta Però cosa volete Che vi dica Ci lasciamo Ci abbandoniamo Con questo Bruttissimo Pacchetto Da 5.000 Ci vediamo Allo prossimo video Dai un altro giocatore Dell'Inghilterra Sto cazzo Gioca questo Liga NOS E gioca Insieme a Vin Diesel A Fast and Furious Spark Yoho Perfetto Sei contento te Siamo tutti contenti E ci vediamo Ragazzi Con un nuovo video Sui spacchettamenti Con i Totti Sì Te ne torni a casa amico Perché vinco io È già andata Ha 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 Hai perso La macchina barba nera Coraggio Ma andiamo Pensate che questo Moscone possa impegnare me Ha 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 Non esiste Ha 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 Oh no Cavalli americani La tua bocca è più grande Del tuo motore Non mi evalua COS What? Grazie.